All'interno di Saima per scoprire gli ultimi ritrovati anti-Covid che vengono utilizzati dalle aziende, dalle scuole, insomma da tutti gli ambienti dove è necessario adottare le misure di sicurezza contro il coronavirus. L'ultimo ritrovato è destinato ai più piccoli, è un elefantino e misura la febbre. L'elefantino è stato studiato come termoscanner amichevole per un bambino con la proboscide regolabile in altezza per l'altezza del bambino, ci si avvicina, il sensore legge la temperatura corporea e dà verde nel caso in cui non abbia la febbre, rosso nel caso in cui ha la febbre e poi un sanificatore simpatico fatto a coccinella gradevole per i bambini. Saima è un'azienda retina che conta oggi 200 addetti, 130 di loro sono impegnati nel settore della sicurezza che nel periodo Covid ha dovuto virare la sua attenzione proprio ai dispositivi anti-coronavirus. Dai tornelli all'elefantino che misurano la temperatura, i sanificatori di aria e i nebulizzatori utilizzati soprattutto in aeroporti e grandi ambienti con un elevato flusso di persone. Sì abbiamo sviluppato sistemi di controllo accessi di prevenzione Covid quindi sistemi di termoscanner e l'elefantino è l'ultima uscita, abbiamo pensato a rendere il sistema di accesso termoscanner più sanificazione gradevole e presentarlo come un gioco per i bambini di modo che non venisse una cosa un po' impattante per l'accesso di un bambino. Le scuole si sono già tra virgolette prenotate per questi sistemi o ci sono soltanto delle sperimentazioni perché la scuola parte fra pochissime settimane? Al momento non c'è ancora chiarezza nelle regolamentazioni per la riapertura delle scuole quindi abbiamo tante richieste, tante richieste e informazioni, qualche pilota quindi qualche test sul campo ma tutti stanno aspettando le direttive dal governo. Quello invece che abbiamo qui in questa stanza che cosa fa? Questo è un sanificatore che abbiamo chiamato aria buona, è un sistema di circolazione dell'area che prende l'area dall'ambiente, lo fa passare attraverso un catalizzatore con lampade UVC che sterilizzano o sanificano l'aria e poi viene riemessa nell'ambiente. È stato pensato per le aule delle scuole o le sale riunioni delle aziende o qualsiasi ambiente. Com'è cambiato il lavoro nella vostra azienda nel periodo Covid? È cambiato notevolmente nei primi tempi in cui abbiamo utilizzato molto smart working, abbiamo adottato tutti i DPI e procedure di sicurezza, poi ci siamo organizzati piuttosto bene, abbiamo mantenuto la nostra produzione e i nostri uffici operativi. Quest'anno abbiamo lavorato anche ad agosto perché i controlli accessi, le manutenzioni, metropolitane, aeroporti, banche, uffici postali richiedevano una continuità di servizio e i sistemi anti-Covid hanno creato piuttosto parecchio interesse e novità.